Ciao, hai aperto questo video? Molto bene. Oggi vi svelerò i 5 ciclo... 5 cicloni, i 5 ciclopi, i 5 problemi più grandi al mondo. Ciò per cui vale davvero la pena combattere sempre. Tra cui l'inalzamento dei mari rischia di stravolgere il mondo così come lo conosciamo. Nel giro di pochi anni. Un'umanità destinata a convivere con le acque divaganti o a sopravvivere. Tutto questo a madre... eh no, tutto questo lo scoprirete oggi guardando questo video. Oggi daremo una risposta a quelle mille domande che sono state fatte. L'emblema più assoluto. La pelle, le palle, i corpi, il calore, l'acqua, il fuoco, l'umanità e tutto il resto. Solo a uomini e donne. E in questo video oggi scopriremo le loro cause. Cercherò di trattare argomenti seri parlando in modo serio e essendo serio. Parleremo di crisi, di fame e di fame della crisi. Cercheremo di dare una risposta alle vostre domande. E se non ne avete, fatele. Un'umanità di trattare argomenti seri. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info